Musica Buonasera amici e benvenuti ad Altro Campo, tutto lo sport in torno a te. Questa sera ci occupiamo di calcio, lo facciamo con Giacomo Gallino, grazie per essere qui con noi. Buonasera. Che è il difensore centrale di una squadra, la Buttiglierese 95, che milita nel campionato di seconda categoria. Ecco, Buttiglierese 95 è la squadra di Buttigliera d'Asti, quindi parliamo della zona intorno a Chieri. Esatto, in provincia però di Asti, non di Torino. In provincia di Asti, una squadra di seconda categoria e noi per la prima volta sfatiamo un tabù, ci occupiamo di calcio, però abbiamo deciso di farlo perché abbiamo conosciuto la vostra realtà e vogliamo raccontare cosa sia il calcio a questo livello, il calcio praticato ad un livello assolutamente amatoriale. Esattamente, calcio praticato da noi come squadra, per l'appunto militiamo nel campionato di seconda categoria, non ha nulla a che vedere con il calcio professionistico, se non per il fatto appunto che si gioca pallone, ma... Ti faccio subito una domanda, è banale, il pallone è lo stesso? Perché abbiamo scoperto la scorsa volta in realtà che nella palla a volo sono diversi a seconda delle categorie. Il pallone è lo stesso? Assolutamente sì. Bisognerebbe fare delle precisazioni perché il pallone è lo stesso come forma, ma purtroppo la consistenza è leggermente diversa perché noi non possiamo cambiare pallone tutte le partite, economicamente non ci possiamo permettere appunto di cambiare i palloni sempre, quindi i palloni sono gli stessi per tutto l'anno, però per quanto riguarda la forma è assolutamente lo stesso. E il peso è esattamente uguale a quello che si usano nei professionisti. I campi invece immagino siano un po' diversi, un po' più piccoli normalmente. I campi sono leggermente più piccoli, però hanno comunque una metratura che deve rispettare quanto stabilito dalla federazione italiana. Non tutti per esempio rispetto ai campi dei professionisti hanno l'illuminazione, cosa che per esempio per appunto Buttigliera non ha, infatti quando dobbiamo giocare delle partite di Coppa che vengono giocate il mercoledì di sera, purtroppo dobbiamo affittare un campo da qualche altra parte perché il nostro non è dotato di illuminazione. Ho capito. Quindi vedete già da questi piccoli particolari, si tratta di uno sport apparentemente simile a quello che vediamo in tv, che in realtà però ha tanti smotti differenti. Facciamo un attimo un azzeramento, come si dice in gergo. Ricapitoliamo. Lo sport del calcio in Italia è professionistico nelle serie A, B, C1 e C2. Professionistico cosa vuol dire? Il calcio è professionistico, significa che le persone che lo svolgono, svolgono quello come una professione e non hanno altre attività al di fuori di quella. Quindi sulla carta di identità scrivono calciatore. Calciatore, esattamente. Di conseguenza hanno quindi tutti i contributi e tutto quello che ha un normalissimo altro lavoratore. Passata la serie C, ci sono le serie D, che è ancora una categoria semiprofessionistica, che quindi impegna il giocatore anch'essa per tutti i giorni della settimana. In più c'è anche un allenamento, c'è un giorno alla settimana in cui vengono fatti due allenamenti per la preparazione fisica. Poi scendendo di categoria abbiamo... Per la serie D non ci sono i contributi. Esattamente. Quindi per l'appunto è chiamato semiprofessionistico perché l'impegno è assolutamente uguale a quello di un professionista, ma non ci sono i contributi, quindi anche la retribuzione, ci sono solo dei rimborsi spese e anche la retribuzione non è la stessa di un professionista. Scendendo di categoria vengono le altre categorie della federazione non professionistiche che in ordine sono l'eccellenza, la promozione, la prima categoria, la seconda categoria in cui militiamo noi di buttigliera e la terza categoria che è l'ultima categoria per quanto riguarda la federazione italiana. Quindi nel vostro caso siete sportivi comunque amatoriali? Noi siamo sportivi pienamente amatoriali e appunto nessuno di noi fa questo di mestiere. Tutti noi abbiamo un altro tipo di lavoro oppure di studio, nel senso che alcuni miei compagni sono studenti, altri lavoratori e quindi il nostro tipo di attività è del tutto ludica, nel senso è un passatempo. Quindi è un'attività direttiva artistica. Esattamente. Si dice sempre che il calcio sia lo sport più praticato in Italia, quello con più tesserati ma sempre rimanendo all'ambito della federazione perché poi ovviamente esistono partite di ogni genere sotto altre organizzazioni, quindi sempre rimanendo nella TGC. Quante sono le squadre in Piemonte? Per esempio nella categoria in cui militiamo noi si arriva fino alla lettera Q partendo dalla lettera A, quindi sono moltissimi gironi. Nella terza categoria sono ancora di più, mentre per quanto riguarda la categoria superiore, quindi la prima categoria, sono leggermente di meno. Sempre però a livello regionale fanno parte anche la promozione che ha quattro gironi in Piemonte, l'eccellenza che ha due gironi, mentre la serie D è una categoria semiprofessionistica, quindi le squadre che ci sono in Piemonte non giocano solo con squadre piemontesi ma capita anche che si vada a giocare Val d'Aosta, Liguria oppure Lombardia. Nel vostro caso invece che squadre incontrate? Qual è il vostro raggio di azione? Allora noi siamo in realtà molto vicini a Torino perché Buttigliera è proprio la prima cittadina in provincia che rimane sotto la provincia di Asti ma è attaccatissima a Torino. Però i gironi vengono fatti in base alla provincia di appartenenza, quindi noi siamo sotto il girone di Asti, di conseguenza quest'anno soprattutto ci è capitato un girone per cui bisogna fare tanti chilometri e quindi anche la domenica mattina il ritrovo molto spesso può essere che sia abbastanza presto rispetto diciamo all'anno scorso. Le zone sono più che altro l'Astigiano e l'Alessandrino e di conseguenza capita di fare spesso tanti chilometri, ultimamente ne abbiamo fatti 65 ad andare e 65 a tornare. Chilometri che coprite con i vostri mezzi e le vostre spese? Ovviamente essendo una categoria amatoriale non ci sono spese coperte, quindi i nostri viaggi sono interamente pagati da noi, la benzina e l'autostrada, quindi i caselli li paghiamo noi e insomma lo facciamo proprio perché ci piace. Chi si incontra in queste categorie? Tu hai 25 anni, l'età media della vostra squadra comunque è piuttosto bassa. Sì, l'età media della nostra squadra è piuttosto bassa perché il ragazzo che ha l'età maggiore ha 27 anni, quindi siamo tutti molti giovani. Si va fino a ragazzi del 92, quindi di 20 anni. Quando si va a giocare in giro in realtà in questa categoria si possono trovare persone, ragazzi di tutte le età. L'ultima domenica per esempio abbiamo incontrato un ragazzino del 94, quindi 18 anni, molto giovane e sempre nella stessa squadra c'era però un signore del 70, quindi aveva 42 anni. Di conseguenza l'età può spaziare veramente, ci sono dei limiti ma sono limiti dettati esclusivamente dalla parte fisica, diciamo dall'aspetto fisico, finché uno può in queste categorie comunque gioca. Quindi si gioca anche fino a 40 anni e tuttora oltre. Sì, noi abbiamo un nostro dirigente che è l'esempio vivente, ha giocato fino a 39 anni nel Bottigliera. Che impegno richiede la partecipazione a un campionato di questo livello per voi giocatori? L'impegno non è un impegno vincolante, perché noi lo facciamo a livello amatoriale, quindi nessuno ci obbliga a fare quello che facciamo. È comunque un impegno abbastanza importante, perché comunque siamo tutti i ragazzi che lavorano, di conseguenza ci alziamo alle 7 e mezza della mattina, facciamo le nostre 8-10 ore lavorative. Cioè, dei più svariati lavori, c'è anche ragazzi che fanno lavori più pesanti, magari falegnami, magari muratori, quindi finiscono il loro orario di lavoro e vengono a faticare, a sudare altre due ore. Perché? Perché c'è un gruppo fantastico, perché gli piace praticare lo sport e perché comunque c'è una grande sintonia, una grande voglia di giocare. Due allenamenti a settimana che sono diversificati comunque? Sì, facciamo due allenamenti alla settimana, nello specifico il martedì ed il giovedì, mentre la domenica pomeriggio c'è la partita di campionato. Il martedì si fa sempre una parte fisica, quindi o corsa o forza, mentre il giovedì è dedicato per lo più ad una parte tecnico-tattica, quindi si vedono i movimenti, si provano i moduli e si fa anche una parte tecnica per migliorarci. Ho capito. Cosa significa far parte di una società come la bottiglierese 95? Quindi di cosa si occupa la società, cosa vi fornisce e cosa invece dovete fare voi? Allora, la società è composta innanzitutto da membri che fanno volontariato, quindi questo va sottolineato. È comunque una società che è nata nel 95 come specificato già dal nome, ma che conta quasi 200 iscritti, dove un centinaio sono sportivi e vi fanno parte la nostra squadra di calcio ed altre due squadre che sono nate quest'anno che praticano invece calcio a 5, una maschile ed una femminile. Vi sono poi una trentina di dirigenti, massaggiatori, allenatori e poi una sessantina di iscritti invece esterni che possono essere genitori piuttosto che amici o sostenitori. Far parte del bottigliera vuol dire far parte di una società che è nata da poco, ma che ha sicuramente tantissima voglia di continuare questi progetti. Abbiamo due sponsor che per fortuna ci aiutano sotto questo punto di vista, però ripeto, loro come società ci forniscono quello che è il campo di allenamento, quindi con le spese varie, gli spogliatoi per fare le docce, quindi acqua calda e anche lì sono altre spese, dove ci aiuta per lo più anche il comune di bottigliera e poi ci fornisce l'abbigliamento sportivo per giocare sia le partite sia gli allenamenti. Tutto il resto però poi rimane a vostro? Tutto il resto, spese extra che possono essere magari visite mediche, infortuni, benzina, sono spese a carico nostro. Anche le visite mediche, l'idoneità è a carico dei caldi? Sì, l'anno scorso l'idoneità è stata a carico nostro. Quindi sicuramente è un universo tutto legato alla dimensione più vera, quella dello sport che si pratica per passione. Noi vi abbiamo seguito, voi anche durante una giornata di campionato, vedremo tra poco un servizio a questo riguardo. Lo lanciamo subito dopo il break pubblicitario.